Cresce l'allarme per la peste suina africana in Italia, una malattia virale che, anche se non colpisce l'essere umano, sta sterminando maiali e cinghiali, soprattutto in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Ma l'abbattimento degli animali, così buffi eppure così intelligenti, è davvero necessario? Purtroppo al momento sì, perché non esiste un vaccino. È l'unico modo per poter eradicare il diffondersi del contagio tra gli animali e quindi il fatto che non esiste un vaccino non ci consente di attuare delle altre strategie perché è la maniera più rapida a cui possiamo far fede per cercare di eradicare il contagio. In attesa di un vaccino, qual è dunque la soluzione alla peste suina africana? Cambiare sistema produttivo, nel senso che noi abbiamo questo tipo di numeri, questo tipo di incidenza della malattia perché abbiamo allevamenti con all'interno 3.000, 5.000, 8.000 e più individui. E quindi la nostra richiesta è sicuramente quella che il governo possa investire, invece che in tutti questi indennizi e sostegni al settore, in innovazione, in riconversione delle produzioni agricole in altro tipo di produzioni, quindi non zootecniche ma appunto agricole, di vegetali, di altri tipi di prodotti per il consumo umano e anche nell'innovazione, per esempio qua menziono la carne coltivata, che invece è molto osteggiata dal governo. Grazie a tutti.